oggi con questo video andiamo a parlare di un youtuber questo youtuber gli piace visitare le case abbandonate e dunque è stato accompagnato da una persona e questo video è un youtuber che ha la passion di visitare le maso abbandonate e ha fatto delle video tutto oggi è fatto questa video è l'anno 2012 e il è accompagnato da una persona un po' più in avanti e la miseria ancora un po' più in avanti non sono il tipo non sono il tipo a partir di questo momento quando il è dentro questo personaggio che è con lui lui fa una proposta e una proposta di PD è un tipo che piace con gli uomini a questo momento il personaggio che è vicino a noi fa una richiesta e no, no, niente assolutamente io non cerco queste cose cerco di andare in paradiso il dice che lui non è fatto per queste cose ma l'altro continua a insistere un prete non, non sono un prete in italiano non ho bisogno di dire perché lo capite in italiano e l'altro continua a parlare del sexo non sono un prete però non sono un prete allora lui ha detto ma tu sei un prete e lui ha detto al youtuber il film non sono un prete non sono un prete non sono un prete non sono un prete però certe cose stavo facendo un film adesso non si preoccupi che stori più a me no, no, è un prete tutto quanto e parla di queste cose antiche ma ci sono certe cose che non ci faccia capire la seconda voglio vedere tutto voglio vedere cosa c'è fa vedere che anche il tempo è un po' più in avanti andiamo un po' più in avanti eh meglio se immagini certo oppure che usi violenza oppure che ti droghi è peggio è peggio ho capito ho capito eh no 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 proprio niente proprio niente eh sono morto e poi non ci voglio proprio pensare assolutamente niente niente proprio sono morto sono morto che oltretutto ognuno ci ha avuto delle cose nella vita che l'ha buttato giù del morale che non è la mia non è la mia non è la mia non è l'altro continua a barattinare eh con lui il youtuber c'è ragione un po' tu vuoi te ami un pochetto te ami te ami eh però non sono il tipo non la lui demanda che il doia sorrire un po' ahah ahah ho avuto delle esperienze brutte che mi hanno segnato tutta la vita mi trovo quasi a 34 anni se ti racconta la vita mia pure è meglio non dirla io purtroppo i traumi sono contento per lei però io i traumi che ho avuto me li porto ancora dietro purtroppo mi hanno segnato non ho non ho niente non ho niente Non c'è niente, sono proprio spira Non c'è niente E ancora il sei Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente E lui dì, fai, fai che apprezzo ti farà plaisire Ho capito il discorso che fa però non so proprio il tipo mi sento proprio che sono distaccato da queste cose Non c'è niente Non c'è niente E io vedo il male su queste cose su gli atteguistici personali e satanici Non c'è niente 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 In Italia on dit Frosione Culaton Gay Ma non c'è la parole gay Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente C'è niente C'è niente C'è niente C'è niente C'è niente Dice Ma pensa un po' Non c'è niente C'è niente E in Italia Voi T' Minuto Minuto C'è le risa Là Allora Il lui a dit E qui... Qu'est-ce que c'est Reggio? Reggio, Reggio Parto qui io che il macello A partir de là, il va risquer Il va falloir, même se faire mal Pour se sauver Là il dit Comment je dois M'échapper d'ici maintenant Je peux m'échapper par là Et il va donc risquer Même s'il doit se faire mal D'aller sur ce toit là Qui risque de s'effondrer Et c'est assez haut hein J'aime bien Julien Thelma J'aime bien Plicer C'est un peu Il dit Evidemment C'est un peu Il dit D'où C'est un peu C'est un peu Oh là là, il y a un bar. Et là, il commence à courir. Il me toca fuggir. Il me toca fuggir. C'est quel froid, j'ai voulu faire quelque chose à moi. Il me toca fuggir. Il me toca fuggir. Il me toca fuggir. Il me toca fuggir. Oh, il me toca fuggir. Il me toca fuggir. Lui, non. mi ha toccato a fuggire sto cercato da una finestra per poco mi si è sfungato dal tetto e quello è rimasto là se crede che scattano due che c'era l'uno mi ci voleva provare ci voleva provare ehi c'è questa macchina qui la servizio là quello che mi sono la macchina mia che sono pensate questa cosa è me non lo faccio io assolutamente questi atti egoistici personali non li cerco assolutamente mamma mia che schifo fammi andare via dai tira via Matteo accende questa macchina e andà via che questo sennò mi fa qualche porcheria dopo io purtroppo non mi regolo quando uno mi cerca da fare qualcosa dopo io puoi essere pure che meno non ho mai nato mai a nissù però in quelle circostanze lì alla fine mi viene un caccio da dare un caccio un fozzumpato a una finestra devo fare una finaccia però non voglio fare male a nessuno preferito fuggire qui sta aspettando qui sta aspettando qui sta aspettando attenzione quando si vanno in certi posti può capitare delle cose è meglio sempre essere accompagnato non si sa mai soprattutto per i giovani ok alla prossima video il macello quello finchè non facevi qualcosa lui non stava in pace proprio è perseguitato dal demone della lussuria sa gente perseguitati è perseguitati che schifo che schifo